Grazie Presidente, anch'io volevo spendere due parole relativamente a questo progetto di legge. Innanzitutto anch'io parto dai ringraziamenti sia ai due relatori ovviamente e concordo sul fatto che finalmente si sia riusciti a dare su un tema così importante un esempio di buona politica, dimostrazione che quando si vuole si possono lasciare da parte le speculazioni politiche e pensare effettivamente ai contenuti che possono essere inseriti all'interno di un progetto di legge che è della massima importanza. Non sto a ripetere parole già dette dai due relatori che condivido relativamente all'aspettativa di vita, è vero viviamo di più però purtroppo sappiamo che gli ultimi anni della vita delle persone molto spesso si vivono peggio rispetto a prima e quindi l'importante è sì vivere di più ma anche vivere meglio e la prevenzione è il primo passo. È ovvio il tema era ampio, complicato, come spesso succede forse si poteva fare di più ma sicuramente il metodo che è stato utilizzato e questo progetto di legge sono un punto di partenza ottimo per poi continuare eventualmente a lavorare anche nelle prossime legislature a prescindere da chi governerà la regione, da chi ci sarà seduto su queste poltrone per poter migliorare ancora di più quello che è un ambito fondamentale che dovrebbe diventare sempre più importante nel corso degli anni. La Costituzione tutela la salute dei cittadini quindi ancora prima di sanità e di servizio sanitario si dovrebbe parlare di salute dei cittadini perché poi chiaramente la cura dovrebbe diventare ovviamente sempre importante a tutela di tutti ma dovrebbe venire innanzitutto la salute. A proposito di questo naturalmente uno dei temi che riteniamo importanti inseriti all'interno del progetto di legge è il concetto di multisettorialità perché appunto non riguarda solo l'ambito sanitario ma riguarda l'ambito ambientale, l'ambito dell'alimentazione. Se noi inquiniamo l'ambiente dove viviamo poi non possiamo pretendere di mangiare sano e di conseguenza di continuare a vivere in salute. E a tal proposito abbiamo voluto inserire un concetto fondamentale all'interno del progetto di legge che riguarda ad esempio la medicina di iniziativa che può essere quella che può calcolare i fattori di rischio, individuarli e di conseguenza programmare quelle, pianificare quelle azioni che possono andare appunto a tutela della salute. Quindi medicina non solo vista come cura ma appunto come tutela preventiva della salute. Legata alla medicina di iniziativa c'è l'educazione alla salute, altro concetto importante che abbiamo inserito all'interno di questo progetto di legge perché naturalmente il cittadino deve essere aiutato dalle istituzioni ma deve essere il primo consapevole di cosa significa mantenersi in salute. Quindi tutto quello che riguarda gli stili di vita deve partire come promozione ovviamente dalle istituzioni ma poi il cittadino deve essere il primo consapevole di che cosa significhi mantenersi in buona salute. E poi abbiamo voluto inserire e ringrazio nuovamente per il lavoro svolto e per aver accettato diversi emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle alcuni aggiustamenti magari anche ad altri emendamenti presentati che riguardano sia i DAE, i dispositivi defibrillatori e abbiamo voluto inserire la promozione della presenza dei defibrillatori anche all'interno dei condomini perché ci sembra importante che anche all'interno dei condomini esistano dei dispositivi che possono essere fondamentali in caso di emergenza. E legata ad esempio alla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico ma non solo, questo potrebbe applicarsi ad esempio anche al discorso dei defibrillatori, per noi è sembrato importante inserire anche degli elementi di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso perché dove purtroppo ad esempio in ambito pediatrico non si riesca con le manovre di disostruzione pediatrica a far uscire il corpo estraneo dal corpo del bambino in attesa che poi arrivino ovviamente i professionisti è importante che ci sia qualcuno che siano sempre più diffuse le attività di formazione anche di rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso che in alcuni casi possono salvare la vita dei nostri bambini. A proposito di salvare la vita, naturalmente i presidi ospedalieri che sono l'elemento in cui curiamo i nostri cittadini purtroppo è notizia di ieri che sono a volte forieri invece di malattie, notizia di ieri 7.800 casi all'anno di morti per infezioni nosocomiali questo è un altro tema che è sempre stato a cuore nel corso degli anni al Movimento 5 Stelle e ringrazio anche qui per l'inserimento di un emendamento che inserisce anche il concetto di prevenzione all'interno degli ospedali ma proprio di tutte quelle infezioni che possono essere correlate all'assistenza perché ovviamente se ci si recchi in ospedale per curarsi non si deve poi invece rischiare purtroppo la vita a causa di infezioni contratte all'interno proprio dell'ospedale stesso. Concludo nuovamente insomma, mi ripeto, ringraziando per il lavoro svolto naturalmente il voto, così anticipo già la dichiarazione, sarà a favore anche degli emendamenti presentati perché comunque c'è stato un metodo di lavoro condiviso e mi auguro nuovamente che questo sia un primo importante passo per poi poter continuare così su questa strada augurandomi che anche in futuro sul tema della prevenzione della salute ci siano sempre meno divisioni ideologiche e politiche, speculazioni soprattutto politiche ma si lavori soprattutto sui contenuti.